Partiamo con Rai 1 e con Leonardo, fiction che idealmente dovrebbe rappresentare la quarta stagione dei Medici ma in realtà si concentra su uno dei personaggi più importanti della storia del nostro paese. La fiction dunque racconterà tutti gli aspetti dell'opera di Leonardo da Vinci. Ci spostiamo su Netflix per il debutto del thriller messicano che fino a fatto Sara, storia di Alex Guzman rilasciato dopo 18 anni di carcere per un omicidio mai commesso e ora deciso a vendicarsi della famiglia malavitosa che lo ha incastrato. Su Disney Plus torna ma in forma di serie tv stoffa da campioni, cambio di gioco, reboot dell'omonimo film cult degli anni 90, la trama riprende quella del film, il dodicenne Ivan viene escluso dalla sua squadra di hockey senza un apparente motivo, cosa che spinge lui e la madre a creare una personalissima squadra composta da perdenti e disadattati. Torniamo su Netflix per un altro debutto, si tratta degli Irregolari di Baker Street, una serie che riprende le avventure di Sherlock Holmes riviste però dalla parte di un gruppo di giovani sentinelle delle strade di Londra che aiutano l'investigatore più famoso della letteratura.